Io la sera che l'acqua è venuta fuori da lì, sono andati a vedere e c'erano tutte le ramaglie, i pianti, i detriti che facevano da ostruzione al ponte. L'acqua tracimava sopra il ponte e poi il resto è venuto giù di qua. Quindi è proprio una cosa precisa, insomma manca la manutenzione. Non c'è assolutamente manutenzione, ma secondo me non solo qui nel nostro territorio, a partire dalle origini delle torrenti, da Schio o su di là. Il disastro poteva essere evitato. All'abbassarsi del livello dell'acqua ora sono le polemiche che vanno a gonfiarsi. C'è chi lamenta il mancato preavviso con opportuni allarmi, chi denuncia l'apertura in ritardo dei vaccini di laminazione, chi sottolinea l'eccessiva cementificazione senza le opportune misure di contenimento dei torrenti. Sono in molti a sostenerlo tra gli intervistati oggi a Isola Vicentina, come anche più a nord, a Malo, dove i torrenti, oltre a aver distrutto due ponti, hanno sommerso per oltre un metro e mezzo la zona industriale di Monte di Malo. È uscito un torrentello qui a nord della zona industriale che è sceso in strada. La strada ripida ha portato giù un bel po' d'acqua, ma è arrivata tutta in un momento. Qui, se vedete, le vetrine sono saltate perché una volta che è arrivata a un livello alto ha buttato giù le vetrine, i portoni in fondo, è stato il disastro. Ma non solo qua, tutti i vicini, il vicino qua è un metro sotto, lui si è salvato per un pelo perché era giù in garage e voleva salvare le macchine. E che per una poca cosa, perché dico se fosse stata una cosa grande, un strarimpamento, per una cosa che si poteva evitare, un disastro del genere, perché se andate su ci sono industrie che decine di milioni appena fatte, che è una cosa fuori di... non ha senso subire questi danni per una cosa del genere. Io ho visto qui, qui c'erano delle persone che hanno dato una mano. Però la rete non ha funzionato o sì, secondo lei? Potevano fare diversamente? Potevano, potevano, è fatica a dire se potevano fare diversamente. Il tempo è quello che è, anche ieri sera aspettavano un'altra ondata, invece non è arrivata, per fortuna, allora va bene così.